attenzione amici da casa primo marzo cala sole a paraggi quest'oggi sono accompagnato dal mio amico daniele che è tornato in pesca con noi dal mio carissimo amico stefano alle riprese quest'oggi un bel cala sole per noi nella bellissima bay di paraggi ci soffermiamo un momentino su queste due montature di daniele classicissime per la pesca a fondo una montatura scorrevole come potete vedere un piombo scorrevole berlina e girella che è proprio la più basica per la pesca a fondo e questa è una piccola variante copiata dal bici leggering o comunque dal leggering in generale tubetto porta piombo che era poi classicissimo per il porta pastoratore una volta quando è uscito il leggering sempre tubetto che va a fare da ammortizzatore la girella e poi il nostro terminale lungo con il nostro americano queste due montature sono le basi della pesca a fondo per chi volesse iniziare o per chi come noi come oggi pesca in una condizione estremamente semplice mare calmo poco vento e poca corrente oggi ci troviamo nuovamente nella bay di paraggi che si trova tra il comune di santa margherita e portofilo potete vedere una baia protetta quindi di conseguenza situazioni di mare grosso qua non ne troviamo completamente di sabbia quindi spot ideale per noi amanti della spiaggia quest'oggi c'è un po di acqua sporca questo sicuramente viene a nostro favore perché i pesci sono anche meno sospettosi anche se comunque aspettiamo che venga buio visto che abbiamo visto nelle scorse battute che i pesci sono fatti vivi una volta che la luce è nata via vi ricordo che siamo in un'area marina protetta quindi di conseguenza necessitiamo di un permesso rilasciato da niente a parte e dire ci mettiamo in attesa amici adesso quest'oggi solo americani è un'esca un po più consistente ci permette di evitare il più possibile i pesciolini per quanto possibile un'ottima esca bella voluminosa intanto non dobbiamo fare lanci lunghi sanguinolenta praticamente l'americano rilascia il suo sangue man mano una volta in caduta 0,22 fluorocarbon anche se siamo ancora alla luce del sole l'acqua un po torbidina quindi riusciamo comunque a pescare bene montiamo questi sono passaggi che con gli anni diventeranno abitudine ad occhi chiusi per voi coppiamo bene l'amo distendiamo bene i nervi del verme e siamo pronti a ripartire oggi come di consuetudine mi affido alla mia montatura scorrevole girellina portapiombo una serie di tubetti perline a far da ammortizzatore la mia girella girella con moschettone per velocizzare del tutto terminale lungo 0,22 fluorocarbon a modello 8 americano scorrevole così non abbiamo problemi il pesce una volta che mangia non sente particolari attreti e va via tranquillo 1 2 3 3 4 4 6 7 9 8 8 8 10 10 11 11 12 11 Saragone gigante dedicato a tutti i miei amici che mi seguono Guardate che spettacolo amici, questi sono pesci unici Quasi le tre, il sole piano piano sta iniziando a calare Lasciando finalmente spazio al buio, che è quello che stiamo aspettando Quasi i miei amici 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 Ributtiamone in mare Perché comunque a diventare di questa dimensione qua magari un pesce impiega un anno, due anni, tre anni Quindi cerchiamo di portare un minimo di rispetto Quasi i miei amici Quasi i miei amici Quasi i miei amici Sto tanto aspettando Sto tanto aspettando, sta arrivando il calare della notte si sta avvicinando Il mare si è calmato praticamente del tutto L'acqua rimane leggermente sporca quindi ottima, alta marea e non ci resta che aspettare amici Quasi i miei amici Quasi i miei amici L'acqua rimane leggermente sporca eccoci amici da casa va tutta finita anche quest'oggi abbiamo visto un po come la pioggia di ieri ha reso un po l'acqua leggermente torbida e fatto sì che qualche bel sarago si avvicinasse arriva anche in questa baia completamente di acqua cristallina generalmente basso fondale acqua cristallina molto molto difficile con la luce riuscire a catturare qualcosa invece oggi abbiamo visto che con l'acqua leggermente più sporca ce l'abbiamo fatta abbiamo portato a casa due bei pesci e la giornata tutto sommato è stata veramente ma veramente piacevole per essere il primo di marzo che dire come vi dico sempre cerchiamo di giocare d'astuzia dove non arriviamo con la tecnica quindi guardiamo sempre bene il meteo prima delle nostre battute di pesca e approfittiamo magari appunto di queste situazioni un po particolari che ci fanno vincere la come si può dire l'astuzia dei pesci nel vederci io vi do appuntamento alla prossima battuta e buona serata a tutti ragazzi